Ciao a tutti i razzocatori, grandissima sorpresa, grandissimo premio Anna Magnani abbiamo qui un bravissimo giornalista con una voce che è veramente calda, che fa piacere sentirla Emanuele Carioti, ovviamente abbiamo qui la bellissima e bravissima Adriana Luso che l'ha premiato, dammi un bacio, doppio premio Bella, molto ispiratrice, ammiratore suono tutto, ormai noi facciamo tutto insieme, quasi tutto siccome lui mi ha fatto un'intervista bellissima in casa mia, l'ho visto, l'ho visto, bellissimo e il ritratto di una grande attrice che ha parlato di mio papà, sono molto affezionato e stasera non me l'aspettavo, mi hanno fatto una sorpresa ma si vede che qualcuno ha visto l'intervista e ti ha chiamato per premiarmi Noi abbiamo qualcosa che c'è qui, abbiamo il Monte che scone abbiamo il Monte che scone, il Monte di Marta, abbiamo anche il Monte della Luscia e qui ci vogliamo imparare comunque salutiamo tutti i vostri fans, tutto il web e ovviamente tutti i fans di Anna Magnani e di Anna Magnani! Ciao!